Buonasera a tutti, io presento oggi una cosa un po' strana, un po' strana da molti punti di vista ed è anche, devo dire, la prima volta che lo faccio, quindi non sono tanto sicuro di come questa cosa verrà, è un po' una cosa sperimentale nella quale si prova a mettere insieme una serie di categorie che tipicamente noi concepiamo come molto distanti e lontane le une dalle altre e sostanzialmente appunto quella della letteratura contemporanea, il cinema hollywoodiano e il romanzo medievale in versi, come dice d'altra parte il titolo. Personalmente diciamo ecco mi trovo abbastanza bene dentro queste categorie perché le ho praticate tutte quante in un modo o in un altro, il cinema hollywoodiano purtroppo meno, quello bollywoodiano un po' di più, ho scritto due film per il mercato indiano, prima di fare questo mestiere facevo lo sceneggiatore io, prima ancora quando ero molto giovane pubblicavo una narrativa di giovani, alcuni anche piuttosto celebri oggi e quindi insomma diciamo ho provato a mettere insieme un po' di competenze acquisite nel corso di questi ultimi 30 anni direi e vedere un po' che veniva fuori sulla base di un'idea che mi era venuta un po' di tempo fa e che mi mi ero detto un giorno o l'altro vorrei provare a sperimentare come viene fuori questa cosa se ci provo, poi dopo il tempo uno non ce l'ha mai di fare le cose diciamo divertenti e quindi non l'ho mai fatto fino ad oggi, poi non sapevo bene cosa inventarmi dentro questa, allora ho detto proviamo, vediamo un po' cosa salta fuori. Su che basi diciamo di ricerca si va a situare questo tipo di ragionamento che io faccio, un'intuizione di base cioè l'idea che fondamentalmente il romanzo medievale inversi, in particolare i romanzi di Crétien de Troyes che sono quelli che conosco meglio, autore della fine del secolo XII, scrive chiaramente in francese, mi sono sempre sembrati più sceneggiature che non romanzo per come li concepiamo noi, cioè il testo di un romanzo medievale inversi mi è sempre parso che somigliasse di più a quello del testo pensato per un film piuttosto che del testo pensato per la lettura. Naturalmente diciamo a supporto di queste ipotesi c'è già il banalissimo fatto di evidenza che si trattava di romanzi pensati per una lettura altavoce per un pubblico che non aveva davanti un testo scritto da seguire, diciamo è chiaro che il tasso di alfabetizzazione degli anni settanta del secolo XII non era tale da consentire diciamo questo tipo di fruizione e anche proprio il gioco cortese che c'era dietro l'esecuzione di questi romanzi che d'altra parte sarebbero diventati di lì a breve per lo più diciamo maggioritariamente testi in prosa invece pensati per una lettura sicuramente differente da quella del romanzo inversi. Secondo naturalmente l'impiego del verso, l'impiego del verso ovviamente si associa originariamente anche a una performatività del testo stesso ma ci sono degli aspetti anche proprio interni al modo in cui le storie sono concepite che mi hanno sempre fatto pensare al cinema più che al romanzo. Primo perché mi piacciono di più dei romanzi, io tipicamente diciamo faccio una gran fatica, ormai faccio moltissima fatica ma anche da giovane faticavo a leggere i romanzi, non mi divertivo, mi divertivo più al cinema sostanzialmente e il romanzo medievale inversi diverte quasi quanto il cinema e poi ci sono proprio delle scene che tu dici questa mi sembra una scena cinematografica cioè questo l'ho visto al cinema e non ti spieghi neanche perché ti dici vabbè forse la mia sensibilità che mi porta a pensare che le cose stiano così e poi però dopo andando avanti piano piano dici vabbè ho capito sarà pure la mia sensibilità però qualcosa di concreto ci deve essere dentro. Ora che mi sono imbattuto a un certo punto in un articolo di uno secondo me dei più intelligenti oltre che dei massimi esperti di romanzo medievale francese inversi e non solo francese anche se soprattutto francese che è Norris Lacey e in particolare lo trovate a un certo punto di questa lista si chiama Medieval McGuffins di Arturian Modo dove praticamente Lacey concepisce questo concetto di McGuffin dentro i romanzi arturiani. Lo vedi non l'avevo pensato solo io. Il McGuffin che cos'è? È un concetto reso famoso da un'intervista di Truffo a Hitchcock ed è un po' diciamo il modo in cui Hitchcock chiama quella risorsa narrativa secondo la quale tu praticamente insegui una cosa che non sai che cos'è e non lo saprai neanche alla fine del film perché tanto l'unica cosa che ti interessa è far muovere la trama. Che ne so, la valigia di Frantic, una valigia nella quale magari ci sono documenti segretissimi o chissà che cosa, tutti con una presa sta valigia, nessuno sa veramente cosa ci sia in quella valigia ma non è quello il punto importante, l'importante è che ci sia la valigia. Ecco quello è un McGuffin. Un concetto tipicamente cinematografico pensato proprio all'interno della produzione del cinema hollywoodiano, cioè da Hitchcock a Hollywood, quindi dopo la sua dipartita dall'Inghilterra, che lei si utilizzava appunto in un articolo del 2005 per spiegare tutta una serie di dinamiche d'azione che si riconoscono dentro i romanzi arturiani medievali inversi. Quindi è tutto. D'altra parte l'interesse di Leisi per questa categoria in realtà fa un po' pandan con un altro suo interesse fondamentale che io trovo veramente diciamo l'elemento fortemente innovativo sul piano della comprensione anche del senso profondo del romanzo medievale inversi e che praticamente tutto il suo ragionamento sul concetto di analogia tematica, quella che lui chiama analogia tematica, ci sono vari articoli suoi citati qua appunto insomma che parlano un po' di questo, che riprendono dei concetti formati da Frank in special form in modern literature and the idea of special form a proposito della letteratura moderna. Cioè sostanzialmente l'idea che tutta una serie di evoluzioni di trama non sia da spiegare in base alla concatenazione dei fatti che avvengono in una storia, cioè al piano meramente sintagmatico, succede prima questo, poi questo, poi quest'altro, ancora poi quell'altro, ma tutti questi fatti rimandano tutti quanti a un piano tematico, cioè sostanzialmente il romanzo medievale inversi non si capisce se non si ragiona così, se uno pensa che i fatti che capitano prima debbano per forza rimandare a fatti che capitano immediatamente dopo, uno non capisce niente, pensa a tocche strani questi medievali che raccontavano le storie in questo modo allucinante, poi per fortuna è arrivata la modernità e allora da allora siamo tutti più razionali. In realtà le cose non stanno così, perché il cinema ollywoodiano funziona esattamente come il romanzo medievale da questo punto di vista, cioè ogni fatto che accade in un film non rimanda a ciò che accadrà dopo, oppure anche sì, ma non è lì il punto, ma rimanda al tema del film, non può accadere nulla che non sia riconducibile al tema del film, il quale tema del film è deciso prima, si sa qual è, cioè il cinema ollywoodiano funziona così bene perché gli sceneggiatori decidono prima di che cosa il film parla, cosa che invece spesso in Europa diciamo è lasciato molto al vago e lo dico anche per esperienza personale. Questo concetto di special form praticamente rimanda proprio a questa concezione tematica della storia all'interno della quale praticamente gli eventi che vengono raccontati tutti quanti rimandano ad un piano tematico, sempre, e si spiegano soltanto in funzione del fatto che rimandano a questo piano tematico. Mi spiego in termini diciamo più chiari con un esempio, se il tema è il rapporto tra amore e onore, come nel romanzo che ci accingiamo diciamo a esaminare dall'angolazione che vi ho suggerito, è chiaro che ogni evento che accade dovrà in qualche misura tematizzare l'uno o l'altro o questi due aspetti fondamentali della cavalleria medievale insieme, possibilmente in maniera conflittuale l'uno rispetto all'altro, poiché dal conflitto emerge il senso fondamentalmente. Insomma ecco diciamo il piano tematico influenza lo scorrimento degli eventi e anche la loro concatenazione. Gli eventi si spiegano in funzione del fatto che rimandano a un tema, più ancora del fatto che rimandano a ciò che è accaduto prima o ciò che è accaduto dopo. Molto spesso ecco guardando quei film americani più costruiti diciamo secondo un assetto tematico forte, il commento diciamo di quelle cose un po' parentali che è un'americanata, sì è un'americanata nel senso che diciamo si perde questa forma di realismo stringente che noi vorremmo attribuire agli eventi che viviamo perché quello che interessa è dimostrare una posizione rispetto a un tema. Sostanzialmente un po' questo è il ragionamento che c'è dietro la costruzione tematica di una storia. Nescevole della Charette, Christian de Troyes, quello che vuole dimostrare che fondamentalmente amore è una forza talmente enorme che se vuoi dimostrare di essere veramente innamorato devi rinunciare in maniera completa a ogni forma di onore cavalleresco, devi umiliarti nella maniera più totale che ci sia e finché non lo fai non hai diritto ad accedere al beneficio che amore ti dà, cioè fondamentalmente il sesso. Questo è un po' il punto nodale della storia. Se questo è il tema ogni evento che accade nella storia dovrà rimandare a questo tema. Naturalmente questo fa perdere anche un po' la logica della sequenza degli episodi. Succedono delle cose come diceva questo mo' che c'entra? C'entra nel momento in cui ragioni sul fatto che questo episodio che si sta producendo rimanda a un tema anche se apparentemente sembrerebbe che non abbia nulla a che fare con la storia che è completamente inutile. In realtà ti spiega che il personaggio in quel momento è a un determinato punto della sua parabola di evoluzione rispetto alla comprensione del tema della storia che sta vivendo. Non so se questo ragionamento di partenza è abbastanza chiaro ma è proprio essenziale per situarci all'interno di questo discorso di analogia che vorrei proporvi tra il cinema hollywoodiano e il romanzo medievale in versi che apparentemente potrebbe sembrare sfuggente rispetto a ogni nostra categoria di appunto costruzione storica dei saperi e delle modalità di transizione delle conoscenze da un'epoca all'altra. Anche se, e vi ho segnalato in bibliografia alcuni oggetti che da questo punto interessano, ci sono una serie di meccanismi che hanno fatto sì che queste categorie tipiche del romanzo medievale siano arrivate fino a Hollywood. In particolare il fatto che tutte le sceneggiature hollywoodiano di successo sono costruite a partire da The Hero with a Thousand Faces di Campbell. Chi era Campbell? Campbell era un psicologo diciamo fondamentalmente, un psicologo junghiano con grandissimi interessi antropologici che praticamente costruisce tutto un ragionamento attorno alla figura dell'eroe che arriva e si ramifica un po' dappertutto fino ai giochi di ruolo, Dungeons and Dragons per dire è inventato sulla base di The Hero with a Thousand Faces. Il cinema hollywoodiano a questo libro fa riferimento. In particolare questo manuale di sceneggiatura di Feugler, The Writer's Journey, è proprio ispirato direttamente a Campbell. Ora naturalmente nella sua costruzione del ragionamento sull'eroe Campbell si porta presso tutta una serie di medievalismi, chiamiamoli così, che in un modo o in un altro però vanno a pescare in una tradizione che è contigua con quella con la quale stiamo per approcciarci. Sostanzialmente diciamo se c'è molta contemporaneità nel romanzo medievale è anche perché il contemporaneo è andato a pescare diciamo là dentro per costruire i suoi codici narrativi. Il medioevo è molto meno medievale insomma di quello che ci immaginiamo o meglio noi siamo molto più medievali di quanto ci piacerebbe pensarci in sostanza. Questi sono giusti diciamo dei cenni per orientarsi all'interno di una galassia abbastanza complessa, articolata nella quale certo molto c'è da fare perché insomma diciamo sono ragionamenti che non si fanno spesso, diciamo la filologia è diventata una disciplina che appunto ragiona un po' in un'ottica esclusivamente letteraria e quindi crea delle traiettorie che sono in ultima istanza prevedibili e noi pure tutti quanti tendiamo a diventare molto prevedibili ma in realtà insomma se andiamo a pescare le origini delle nostre letterature ci sono delle cose divertenti diciamo che diventano poi noiose quando vengono canonizzate e letterarizzate ma in origine il romanzo medievale e la poesia dei trovatori erano cose divertenti, era fondamentalmente più vicina alla musica e al cinema che non alla letteratura che sicuramente è meno divertente di entrambe le cose. Ora un altro indizio su questa idea diciamo che non c'è tutto mi era venuta voglia di sviluppare l'ho collezionato quest'estate al congresso internazionale della società arturiana, il venticinquesimo si è tenuto a Würzburg, città piovosissima anche in estate, sconsigliabilissima a punto di vista turistico e Daniel James Raul ha tenuto una plenaria a proposito appunto dell'argomento che avete segnalato, la voile a letto, le donne romane arturiano verde, la seconde matrice du deuxième siècle. Ho estrapolato diciamo da questa sua presentazione un dato che lì per lì mi ha molto colpito, cioè il rapporto praticamente tra narrazione e dialogo nei romanzi medievali inversi, soprattutto quelli di Crétien de Troyes, questi sono i cinque romanzi diciamo attribuiti con certezza a Crétien de Troyes in ordine cronologico. Sembrerebbe di poter dire, almeno così la presentava lei, i dati sembrerebbero dalle ragioni che c'è una progressione diciamo nell'ingresso del dialogo all'interno della narrazione che dai primi e più antichi esperimenti romanzeschi, Reck and Need e Cliges, si va a strutturare in forme più congrue, Nesce, Lasciarette e Cerviolion, per raggiungere addirittura la metà del narrato nel Condiugral, che per la parte relativa a quello scritto da Crétien, diciamo Levi e Condiugral, come lo chiamava Ghio, cioè il, diciamo quello scritto e non finito da Crétien de Troyes. Ora, naturalmente questo elemento di incidenza del dialogo, così cospicuo per alcuni dei romanzi di Crétien, è davvero molto significativo, perché una scengiatura è fondamentalmente un equilibrio di dialogo e descrizione di fatti. Mi sono detto, Toh, Cerviolion e Cerviolion sono molto vicini a quel punto d'equilibrio che tipicamente viene consigliato a uno sceneggiatore che scriva una sceneggiatura, cioè che fondamentalmente diciamo quasi la metà, diciamo, del testo è dialogo, in sostanza. E quindi mi sono detto Toh, abbiamo un altro piccolo indizio, portiamolo avanti e vediamo dove si può arrivare. E allora io a un certo punto ho detto, facciamo come fanno gli sceneggiatori e pigliamo Final Draft 10 che, almeno io c'ho quello, non so se è uscito l'11 nel frattempo, che è il programma con il quale si scrivono sceneggiature professionali, cioè la sceneggiatura non è una cosa che tu scrivi come ti pare, la sceneggiatura va scritta dentro un formato preciso, così come d'altra parte il romanzo medievale in versi che era in cuplet d'octosillab, o non era, diciamo. Il formato preciso è appunto Final Draft 10, ce ne sono due, un'altra è concorrente, non mi ricordo come si chiama, non sto facendo pubblicità, ve lo giuro, è che c'ho questo e quindi uso questo. E ho detto proviamo a fare proprio come se fosse una sceneggiatura, ma in questo fare questa sceneggiatura facciamo una cosa che è proprio radicale, cioè la più radicale che si possa fare, più ancora che Bram Stoker's Dracula, cioè Bram Stoker's Dracula è proprio il Dracula di Bram Stoker, però diciamo riscritto dagli sceneggiatori. Qui invece proprio scriviamo il sciavere della sciaretta di Cristiano de Troyes, ma proprio con le parole sue, cioè senza cambiare una sola parola e vediamo cosa viene fuori. Naturalmente si pone tutto un problema significativo su quali sono le parole sue, nel senso che noi non possediamo manco una riga scritta di pugno di Cristiano de Troyes e possediamo, diciamo, varie versioni di ciascuno dei suoi romanzi. La tradizione è piuttosto stabile, ma come vedremo presenta pure una serie di complicazioni problematiche, di rilievo non banale, quindi anche con queste bisogna un po' fare i conti. D'altra parte, diciamo, sembrerà paradossale, però insomma c'entra pure un po' di filologia hardcore dentro questo stendere una sceneggiatura a partire da Cristiano de Troyes, c'entra un po' con tutto la filologia, d'altra parte. E vabbè, quindi ho detto scriviamo pure i credits come se fosse una sceneggiatura fondamentalmente, poi dopo mi sono detto, vabbè, senti, quasi quasi, a questo punto quando l'ho finita la manda alcuni amici miei che ancora fanno sto lavoro, magari poi, che ne so, se gli interessa facciamo il film. Quello che vi presento qui, sulla sinistra, il testo come lo trovate nell'edizione di Full of WT, cioè diciamo l'edizione di riferimento per me almeno, anche se diciamo chiaramente è stato pubblicato e ripubblicato il romanzo, questo romanzo di Cristiano, come tutti gli altri, e sulla destra, destra, sì, trovate invece la riduzione a testo per, diciamo, di servizio per un film, cioè una vera e propria sceneggiatura. Naturalmente mi sono preso una serie di, come dire, licenze mie, nel senso che, diciamo, come cominciare questo film, l'ho un po' deciso io, anche se, di nuovo, mi sono un po' appoggiato da filologo e quindi, diciamo, incapace di staccarmi dalla tradizione manoscritta fino in fondo, appunto ai elementi che la tradizione ci offriva. E quindi, diciamo, all'inizio io suggerirei di vedere la miniatura di Maria Champagne nel manoscritto 794 e quello di Chio, adesso purtroppo, stupidamente, non ve l'ho portata, ma insomma c'è Maria Champagne seduta in trono della dedicataria del romanzo, no? Perché c'è una prima parte di prologo che non avevo ben idea di come si potrebbe filmare, ma sostanzialmente, diciamo, ho detto, vabbè, facciamogli vedere la miniatura. Dopodiché, nella scena 2, passerà un'altra miniatura che invece avete visto perché è questa, quella in basso a sinistra dove c'è Realtù che sta in piedi con la corona e davanti a lui c'è Meliagaon che è il cattivo, completamente vestito per la battaglia, arriva con l'armatura, già pronto a combattere, nel mezzo della scena iniziale. Questa miniatura invece nel manoscritto, diciamo, i manoscritti miniati di Sceo e di Lasciareti sono soltanto due rimasti, fondamentalmente, uno che è il manoscritto 794 del quale possediamo però soltanto una miniatura introduttiva del romanzo, che è quella che non vi ho fatto vedere ma che prevederei di mettere in una sceneggiatura, e l'altro è il manoscritto di Princeton, cioè il Garrett, questo qua, che presenta varie miniature, però lo possediamo in versione frammentaria, quindi sostanzialmente credo che ne sono rimaste due sole, mentre invece per Sceo e Leone ne abbiamo 5. Questo è stato un altro dei miei terreni di ricerca più convenzionali. Ora, vi dicevo appunto, introdurre il romanzo in questo modo, ma poi da lì in poi cercare di seguire in maniera più stringente possibile un'organizzazione che sia quella del testo stesso, cioè presentare Chevrolet della Charette come se fosse una sceneggiatura, e magari, che ne so, anche pubblicarlo così potrebbe essere un'edizione folle, però insomma è in qualche misura interessante per capire una serie di cose. Il primo tratto che vediamo a occhio nudo è che sostanzialmente, diciamo, di qua e di là ci va un numero di versi più o meno stabile, il che è abbastanza ovvio, ma non necessariamente, perché poi appunto dipende poi dalla quantità di dialogo, dalla quantità di descrizione, se c'è più descrizione naturalmente il formato fa in modo che ci vada più testo, se c'è più dialogo fa in modo che ce ne vada di meno. Quello che ho provato a fare, diciamo, è stato proprio riportare il dialogo nelle forme che assume nel testo. Se voi prendete appunto la pagina sceneggiatura, la cosa che colpisce di più, proprio l'impatto visivo, è il fatto che non sembra tanto strano, cioè una cosa che più o meno può essere. Se lo mandi a un produttore non ti dici, oddio che mi hai mandato, dici, vabbè, certo c'è dialogo a volte molto pesante, però può capitare che nei film più impegnati questo accada. L'elemento effettivamente più significativo di disparità rispetto a una sceneggiatura commerciale è il fatto che il dialogo tende a volte a essere piuttosto lungo, cioè i personaggi parlano a lungo quando parlano. Ad esempio, l'intervento iniziale di Melagan sono nove righe, nove righe di dialogo, insomma, diciamo, sta per più di un minuto di film, quasi un minuto di film, forse mezzo minuto, diciamo, perché in realtà, beh, sì, diciamo, poco più di mezzo minuto. Quello che si fa tipicamente rispetto a Final Draft è pensare che in una pagina ci sta un minuto di film. Questa è un'altra ragione per la quale è molto utile utilizzare questo formato, perché in questo modo si è anche in grado di ricostruire un minutaggio, cioè vedere fondamentalmente quanto lungo sarebbe Cevoli della Charette qualora fosse un film. Alla fine qualche indicazione su questo ce l'avremo. Vabbè, diciamo, adesso io non sto qui a commentarla analiticamente, perché sarebbe sostanzialmente come commentare il romanzo, nella sostanza, perché quello che ho fatto è stato semplicemente prenderlo e schiaffarlo da una parte all'altra. L'unico elemento un po' particolare, diciamo, sul quale vorrei intrattenervi per qualche minuto è questo, cioè il fatto che a un certo punto il manoscritto della Biblioteca Nationale de France 12.560 propone uno sviluppo divergente della storia rispetto a tutto il resto della tradizione, perché fa una di quelle cose che probabilmente Gretziano Le Trova avrebbe trovato veramente criminale e che, d'altra parte, penso anche un regista, diciamo, bravo di oggi troverebbe criminale, cioè praticamente racconta lo scontro tra Que, il siniscalco di Artù e Melagano. Vi riassumo la storia in rapidissimi cenni. Quello che accade all'inizio del Cevoli della Charette è che arriva Melagano, questo cattivo cavaliere che dice di aver preso in ostaggio una serie di persone di ogni estrazione sociale appartenenti al regno di Artù, le quali adesso si trovano nel regno di Gor, cioè dal regno di Logre, che è il regno di Artù, sono state trasferite nel regno di Gor come ostaggi. Di fatto il regno di Gor ha questa antica consuetudine di diritto consuetudinario, chiamata appunto la Costume, secondo la quale sostanzialmente nessuno può tornare dal regno di Gor una volta che c'è andato. Naturalmente ci sono vari studi, a cominciare da quelli di Lumis che giustamente hanno messo in luce il fatto che si tratta di fatto di un viaggio agli inferi, insomma, no, l'idea che stai anzi ad andare all'inferno non puoi tornare indietro e d'altra parte è lì che Ginevra verrà portata e da lì Lancelot la riporterà, farà in modo che possa tornare indietro insieme a tutti gli altri prigionieri di Artù, sgominando il cattivo Meliaghan e anche mettendo fine a questa Costume, a questa, diciamo, legge consuetudinaria giudicata iniqua, forse nemmeno iniqua, proprio che in realtà, diciamo, non va bene in quella contingenza, quindi va tolta. E quello che succede è che all'inizio del romanzo, probabilmente che è il siniscalco di Artù, ed è il più imbelle dei suoi cavalieri, cioè quello che perde sempre fondamentalmente, reclama per sé la battaglia contro Meliaghan. Meliaghan richiede a Artù che mandi uno dei suoi per combattere contro di lui, di modo che possa riscattare questi ostaggi che lui praticamente ha portato presso il regno di Gor. Se non che, nel caso in cui fosse lui a vincere, vorrebbe che la regina Ginevra andasse con lui anche lei. Artù si trova nella posizione che non può, diciamo, fare a meno di spedire Ginevra a combattere questa battaglia, e d'altra parte il siniscalco verrà sconfitto, e quindi Ginevra verrà effettivamente trasportata da Meliaghan nel regno di Gor. Ora, il manoscritto T, siglato T, è il 12.560 della Nazionale di Parigi, praticamente racconta per filo e per segno questa battaglia, racconta lo scontro come si svolge, dice appunto, già dalla pagina precedente, ecco, dice, che si invagliere, vabbè, forse lo troviamo più facilmente, ah no, lo troviamo di qua perché non ce l'ho messo, Carmoult qui de bien défendre Ginevra e versé lui qui le duet attendre, cioè praticamente che porta fuori dalla corte di Artù a Ginevra per andare a combattere questa battaglia contro Meliaghan. E quello che succede nelle due pagine successive è che fondamentalmente viene sconfitto, anche, diciamo, combinato con ciato piuttosto male, e deve essere trasportato su una litier, cioè su una specie di barella che viene attaccata a un cavallo che in fretta e furia gli uomini di Meliaghan fanno in modo di costruire. Tutta questa parte, diciamo, ecco, non c'è nel grosso della tradizione ma si trova in un solo manoscritto della tradizione e ho provato a fare in modo, diciamo, di farci figurare anche questo per, diciamo, potrebbe essere una di quelle tipiche scene, diciamo, girate e non montate, sostanzialmente o quelle che va dopo i titoli di coda, ma nella sostanza, come vedete, anche la situazione, diciamo, raccontata dal manoscritto T si trova a cadere nell'assetto, diciamo, dello script in maniera piuttosto equilibrato come tutto il resto. D'altra parte è scritto alla maniera di Cartier-Den-Trois, è scritto estremamente bene e ci sono delle ripetizioni che fanno pensare che sia sicuramente apocrifo e certamente lo è, non è una cosa che Cristian voleva scrivere, per il fatto che molto del suo raccontare funziona per ellissi. L'elemento delle ellissi è un altro elemento che fa molto pensare al cinema hollywoodiano, cioè l'idea che certe cose tu praticamente le scopri soltanto quando quelle cose hanno il massimo impatto emotivo sul pubblico. Ora, se noi andiamo al momento in cui il manoscritto T comincia a divergere da tutti gli altri, che è sostanzialmente qua, quello che succede è che che porta Ginevra fuori dalla Corte, d'accordo? Se noi sottraiamo la parte che troviamo nel solo manoscritto T, quello che noi abbiamo nel resto della tradizione è fondamentalmente un consiglio, subito dopo che esce dalla Corte, abbiamo uno stacco e troviamo Artù e Galvano a consiglio, con Galvano che di certo guarda hai fatto una follia, hai fatto un errore gravissimo, non avresti dovuto fare questa cosa, è uno sbaglio totale, secondo me dobbiamo salire a cavallo e andare a inseguire immediatamente per vedere almeno come va a finire questa storia. Quando lo fanno in realtà è troppo tardi perché Kioia ha già perso lo scontro, è stato sconfitto e vedono soltanto il cavallo che esce dalla foresta. Altro elemento cinematograficamente molto forte perché tu vieni a scoprire che Kioia è stato sconfitto non dal fatto che hai visto tutta la battaglia ma dal semplice fatto che vedi il cavallo uscire con le briglie spezzate e la sella insanguinata. Il ragionamento per Elissi è un ragionamento abbastanza caratteristico del modo in cui Christian de Troyes costruisce il suo narrare ed è anche piuttosto normale se pensiamo al modo in cui questi testi dovevano essere fruiti. Noi oggi immaginiamo, noi un romanzo fondamentalmente lo leggiamo silenziosamente, questi erano romanzi che invece erano pensati per un ascolto pubblico e dovevano accendere quell'elemento fondamentale che ogni tipo di ascolto pubblico deve accendere cioè la suspense fondamentalmente. L'elemento di suspense è un elemento fortemente presente e anche, lo potremo vedere più avanti, lo accenno già adesso tanto è inutile fare appunto della suspense, il momento in cui noi scopriremo cosa è veramente accaduto a Ginevra in realtà è il momento di massimo rimbalzo il motivo sul protagonista perché Lancelot sarà già entrato in scena, sarà già salito sulla charrette, starà guardando la pianura dall'alto di una torre e a un certo punto puff, vede comparire il corteo che sta trasportando Ginevra e che è presso il regno di Gore e riconosce immediatamente Ginevra e a momenti finisce di sotto alla finestra perché l'amore è tale che lui vuole raggiungerlo anche se non sappiamo ancora chi sia Lancelot e non sappiamo al limite neanche chi è innamorato perché non ce l'ha ancora detto ma è lì che lo scopriamo, lo scopriamo nel momento in cui rivediamo Ginevra. Abbiamo un ragionamento quindi per il Lissi che costruisce la suspense fondamentalmente già allora. Un altro elemento di suspense molto interessante ce l'abbiamo qua, pagina 6 dello script quindi sarebbe il sesto minuto del film e abbiamo anche come vedete le specifiche parentetiche dice Amba pour sé que de l'oïste parlando basso di modo che nessuno la senta parla Ginevro mentre sta uscendo dalla corte e dice ah se vosso esies già si croè ne me laisse esies sans challenge me ne ha un pas dice praticamente se voi sapeste che cosa mi sta per capitare non mi fareste muovere un passo sans challenge cioè senza contendere questo mio uscire di qui. non si capisce bene se stia parlando a Artù è probabile che lo stia facendo e non si capisce bene a che cosa lei faccia riferimento sta semplicemente costruendo una suspense totale sul seguito della storia non sappiamo bene se sul fatto che poi lei ovviamente ha seguito tutti questi episodi finirà per dormire con Lancelot perché questo è quello che accade o per il fatto che verrà di lì a poco sconfitto e quindi sarà portata nel regno di Gore certo è che questa battuta è semplicemente intesa a costruire della suspense cioè è rivolta fondamentalmente al pubblico anche se è interessante questo raggiamento su l'ascoltatore implicito in questo caso si dice molto chiaramente nel seguito che il conte Ginable che poi non si vede mai più nella storia cioè proprio appare soltanto qui in realtà la sente quindi c'è un testimone che ha sentito questo suo diciamo questo suo accenno e questa sua profezia perché in ultima istanza questa è una profezia che Gennier sta formulando a beneficio evidentemente del pubblico insomma ma appunto è interessante il fatto che uno dei personaggi sia in condizione di ascoltarla e al cinema quello che vedremo è lei che parla a basso e uno si gira e vede che effettivamente lei sta parlando e ha ascoltato ciò che lei ha detto poi ci aspetteremo che questo suo ascoltare serva a qualcosa invece nel resto del romanzo questo suo ascoltare non esce fuori da nessuna parte il che è interessante perché c'è pure tutta una serie di non sequitur che funziona in una maniera che noi diremmo un po' particolare rispetto al cinema hollywoodiano tradizionale è più una cosa che potremmo vedere in un film di David Lynch che ne so si viene in mente lui dove succedono delle cose che ti aspetti che chissà dove devono portare invece poi non portano fondamentalmente da nessuna parte ma di nuovo anche i non sequitur tutti dicono ah il romanzo medievale è strano perché piano non sequitur è strano come strano il cinema strano che vediamo oggi insomma e non di più siamo di nuovo molto più medievali di quello che ci piacerebbe pensare e vi dicevo appunto che il momento di massima enfasi sul il momento di massimo rimbalzo emotivo è quello in cui è quello in cui vediamo se lo ritrovo al volo vabbè prendiamola un po' di seguito se no mi perdo anche io il momento di massimo rimbalzo emotivo è quello in cui tipicamente le cose devono accadere come al cinema al cinema devono succedere delle cose che sono forti da un punto di vista di impatto quello che interessa è cogliere le emozioni del pubblico non tanto costruire una storia che abbia un senso lineare il senso lineare è anche noioso te lo puoi aspettare è prevedibile quello che interessa di più è che invece le scene abbiano una forte intensità e colpiscano lo spettatore e questa cosa è abbastanza caratteristica del modo in cui il protagonista entra in scena in questo romanzo ed è una cosa di nuovo estremamente cinematografica cinematografica in un modo di nuovo particolare perché il cinema hollywoodiano quello diciamo di cassetta commerciale vorrebbe che il protagonista fosse presentato secondo una serie di elementi che lo rendono familiare al pubblico fin dall'inizio da questo punto di vista Chévetlachette non sarebbe un film commerciale senza ombre di dubbio perché Lancelot entra in scena in una maniera veramente improbabile cioè a un certo punto per caso ci sta Galvano che sta andando avanti agli altri mentre appunto stanno andando a cercare Ginevra e stanno cercando di capire cosa le sia capitato che cosa sia capitato a che appunto è stato sconfitto e viene scoperto questo fatto che è stato sconfitto dal cavallo che esce dal bosco mentre sono in una radura tutti i cavalieri di Arturo riuniti Galvano è davanti agli altri e Galvano incontra un cavaliere senza nome non si sa chi è non si sa da dove salta fuori non si sa come è uscito fuori sembrerebbe appunto prodotto da un mito il tipico della figura mitologica mi vengo in mente quei film western in cui il cavaliere solitario viene da lontano e dici toh sta nuvola di fumo e in mezzo c'è Lancelot fondamentalmente e nessuno saprà che è Lancelot fino a verso 3.000 e rotti d'altra parte perché il suo nome sarà reso noto da Ginevra mentre sta combattendo contro Melaghan in un punto molto avanzato del romanzo e l'elemento che interessa sottolineare qui che davvero io trovo straordinariamente cinematografico è questo il rompere del protagonista in maniera appunto subitanea e assolutamente non prevista cioè uno fino a qua potrebbe credere che ne so il protagonista del romanzo è addirittura che cosa improbabile c'è solo un romanzo in versi che conosca che come protagonista è manco per tutta la durata del romanzo stesso perché insomma diciamo è un personaggio di secondo piano oppure potrebbe pensare che è Galvano come tantissimi romanzi arturiani del secolo XIII invece no è Lancelot e Lancelot entra in scena appunto senza nome senza che nessuno sappia chi è a un certo momento cioè qua a scena 13 diciamo fondamentalmente che è una cosa un po' strana per un protagonista vi dicevo di un film commerciale diciamo che appunto da questa angolazione sicuramente Scherzer non sarebbe un film commerciale e l'altro elemento interessante di organizzazione cinematografica del romanzo è legato invece al fatto che Galvano è un po' diciamo il signor Rossi ecco dei cavalieri della corte d'arturio è organizzatissimo c'ha due scude di aerei che gli portano due cavalli di riserva e il modo in cui incontra Lancelot è molto particolare perché Lancelot ha appena stremato a morte il cavallo sul quale sta galoppando plausibilmente da molto tempo e ha bisogno di un nuovo cavallo e chiede a Galvano uno dei suoi riconoscendolo dice chiaramente Cristiano riconoscendolo e salutandolo quindi insomma diciamo sa di chi si tratti mentre evidentemente Galvano non riconosce lui oppure se sì non c'è dato modo diciamo di capirlo e Lancelot prende quindi in prestito uno dei due cavalli di Galvano Galvano si è portato da casa diciamo da casa dalla stalla del castello di Carleon e dei cavalli di riserva e a che servono servono a questo servono a che a un certo punto ci possa salire sopra Lancelot l'elemento narrativo quindi prepara una scena che va a prodursi poco tempo più avanti è un'altra caratteristica abbastanza tipicamente cinematografica lo devi dire al pubblico così quando Lancelot ne avrà bisogno il pubblico saprà che aveva un cavallo in più specialmente se non lo vede perché è un romanzo in versi quindi naturalmente lo ascolta e basta e il fatto che Galvano esca dalla corte con due cavalli è segnalato con grande chiarezza ora l'altro elemento molto interessante e qui più che al romanzo contemporaneo ci proietta nella dimensione del romanzo medievale in prosa e quindi anche in una certa misura al romanzo contemporaneo è il fatto che tutta questa serie di episodi che noi stiamo raccontando qui è oggetto di una rivisitazione molto accurata e attenta da parte e qui diciamo si fa un po' complesso non ho tutte le referenze ma sarebbe stato complesso gestire materiali è oggetto di una analitica rielaborazione nella versione in prosa del Chevrolet della Charrette che noi troviamo nel romanzo di Lancelot cosa succede che fondamentalmente agli inizi del secolo XIII cioè fondamentalmente una trentina quarantina di anni dopo che questo romanzo è stato composto il romanzo diventa oggetto di una rivisitazione in prosa che va a far parte della grande storia di Lancelot il Lancelot in prosa il romanzo diciamo che per dire Dante ha letto che Boccaccio ha letto che tutti hanno letto in Italia quello di Galeotto per capirci insomma e dentro quel romanzo tutti questi episodi vengono ricostruiti in una maniera che ci fa capire quanto poco questo romanzo in versi sia romanzesco cioè il nodo fondamentale dell'arrivo di Lancelot dal nulla il nodo fondamentale dell'arrivo di Lancelot dal nulla viene demistificato nella versione in prosa del romanzo la versione in prosa del romanzo ci racconta che la nutrice di Lancelot la dama che lo ha la fata fondamentalmente l'ha cresciuto gli dice gli dice guarda quel tal giorno fatti trovare là perché quel giorno se non ti fai trovare là la regina Ginevra verrà verrà rapita e lui si fa trovare là da bravo diciamo soldatino e comunque sia anche il fatto di trovarsi là non salverà Ginevra il fatto di essere rapita in ogni caso viene spiegato a monte il motivo per il quale Lancelot si trova in quel punto a credere di trovare di questa cosa naturalmente non gliene frega assolutamente niente perché l'unico punto nodale del protagonista di questa storia per lui è il fatto che Lancelot è follemente innamorato di lei questa è l'unica ragione per la quale lui si trova lì basta e avanza e non vi deve interessare altro il tema di questo romanzo è proprio questo cioè il fatto che amore vince su tutto credo ne trova ha tradotto video naturalmente insomma diciamo conosce bene il suo video e è da lì che naturalmente costruisce il suo ragionamento è importantissimo che Lancelot sia innamorato l'unica cosa che lui vuole dimostrare con questa storia è che Lancelot è sinceramente innamorato di Ginevra e per il fatto di essere sinceramente innamorato di Ginevra ha diritto a dormire con lei questa è l'unica cosa che gli interessa il resto proprio è completamente indifferente per lui naturalmente invece nella costruzione del romanzo in prosa che prende l'episodio della charrette lo fa diventare parte di questo grande affresco narrativo su Lancelot ma anche su tutto il ciclo arturiano che diventerà d'altra parte una storia ipertrofica all'interno della quale l'episodio di Lancelot e Ginevra diventa fondamentale perché fondamentalmente i germi della caduta del regno d'artù saranno da identificare proprio nel tradimento di Ginevra è chiaro che tutta la storia prende un altro aspetto ma Cristian de Troyes diciamo di tutto ciò non ha veramente cioè proprio non gli può interessare di meno di quanto ci appunto dice perché il problema per lui è che fondamentalmente quando sei innamorato tu sei innamorato e basta hai diritto a fare tutto perché la legge che governa è la legge d'amore in prima istanza lo dice chiaramente proprio nei cevalieri della charrette più avanti nel romanzo dice quando Lancelot praticamente si autocompiange per il fatto di essersi comportato come coloro i quali non obbediscono alla costume d'amore cioè che non seguono le leggi della corte d'amore l'unica corte che fa le leggi che bisogna obbedire per forza se sei innamorato devi comportarti da innamorato questo è il tema del romanzo e a questo lui si attiene ora quindi l'ingresso del protagonista nella storia da questa angolazione come vedete differisce in maniera radicale anche dal modo in cui il protagonista entra nella storia nel romanzo in versi che solo 35 anni dopo di fatto riconfigura completamente questa storia per dare un senso una motivazione alla presenza di questo personaggio lì dove si trova che altrimenti non sarebbe affatto chiara e non è l'unico caso ne vedremo qualcun altro andando avanti quindi diciamo abbiamo da una parte l'ellissi che è una fortissima forma diciamo di costruzione di suspense dall'altra parte un assetto tematico che rende credibili delle cose che altrimenti non lo sarebbero unito naturalmente al fatto dell'incognito e a questo mistero che alleggia attorno al personaggio che quindi dici non è che ti dice ma questo mo che ci fa qua dici vabbè è un cavaliere che viene dal nulla sostanzialmente questo è quello che pensi in quel determinato momento il cowboy il bounty hunter che arriva nella nube di polvere nel film western per capirci un altro elemento che diciamo un po' ci proietta in una dimensione complessa rispetto al cinema come lo conosciamo oggi diciamo il cinema di ultima come lo conosciamo oggi è quello delle digressioni di Daskaliche di questo mi sono occupato in un recente contributo perché secondo me rappresenta uno dei motivi di maggiore realismo dei romanzi di Christian de Troyes cioè il fatto che le digressioni di Daskaliche che lui costruisce non sono mai exposition exposition cos'è? è quella cosa che quando voi vedete quelle soppopera fatte male fondamentalmente i personaggi parlando tra di loro vi raccontano la storia quello è un caso tipico di exposition ah perché lui aveva fatto questo no lui quell'altro cioè sono quelle ricapitolazioni fatte utilizzando la voce dei personaggi ecco Christian de Troyes questa cosa non la fa mai veramente mai quando si tratta di spiegare una cosa che i personaggi non sanno allora lì interviene il dialogo cioè solo nel caso in cui un personaggio stia raccontando a un altro una cosa che quel determinato personaggio non sa allora lì il dialogo può intervenire quando invece si tratta di fatti che sono noti a tutti lì interviene lui stesso come nel caso in cui spiega che cos'è la charrette e qui c'è questa digressione di Tascalica che d'altra parte va resa secondo la sua voce perché è così che lui la presenta a pagina 11 quando lui spiega che cos'è la charrette questo episodio diciamo ha un interesse fondamentale all'interno del romanzo e naturalmente ce l'avrebbe anche all'interno del film è l'episodio in cui Loncelot sale sulla diciamo eponima charrette quella che dà il nome al romanzo ovvero sul carro che porta i criminali in giro per la città un po' alla gogna praticamente e salendo su questa charrette rinuncia fondamentalmente al suo onore cavalleresco da quel determinato momento diventa un un reietto sostanzialmente non può più entrare a corte non ha diritto a che la giustizia sia amministrata secondo il suo rango cavalleresco e sostanzialmente diventa un criminale viene presentato come tale qui diciamo questo passaggio è spiegato in termini con un intervento del narratore fondamentalmente spiega che cose erano i carri e i tempi e dice che sono fondamentalmente la stessa cosa della gogna ai tempi in cui in cui Gretchen Dettura scrive il romanzo e dice che sostanzialmente ai suoi tempi in ogni città che si rispetti ce ne sono almeno mille in giro per la città immaginate città con mille gogne sparse un po' dappertutto mentre invece ai tempi di Artù c'era una sola carretta che si faceva il giro per tutta la città per portare all'udibrio pubblico il criminale ora questo episodio cioè l'arrivo nella piana della charrette dove si trova questo nano che conduce questa charrette in un luogo completamente incongruo non si capisce bene che ci stia a fare è chiaramente una costruzione narrativa molto particolare e singolare perché dovrebbe stare in una città la charrette invece la troviamo in mezzo al nulla cioè dopo che i cavalieri hanno attraversato una montagna un bosco e a un certo punto stramazza morto l'ennesimo cavallo quello che Galvano aveva prestato a Lancelot e Lancelot si trova incapacitato a proseguire il suo inseguimento a quel punto puff spunta fuori la charrette altro elemento tipicamente cinematografico cioè costruzione tematica devi umiliarti nel modo più profondo che ci sia per poter continuare il tuo inseguimento d'amore è evidente questo è proprio il tipico caso di Americanata cioè quella che noi chiameremmo un'Americanata una di quelle cose che tu dici vabbè ma che c'entra lì no? e vedi la vecchia zia che dice ti guarda un po' di traverso perché ti stai interessando a questo film che è pieno di cose che non hanno il minimo senso ai suoi occhi di nuovo il senso è assolutamente tematico la charrette sta lì perché crediamo deve mettere il suo protagonista nella peggiore posizione possibile questa è la prima regola che ti insegnano a Hollywood cioè il tuo protagonista deve trovarsi dal minuto 1 fino al minuto in cui non risolve la sua vicenda nella peggiore situazione che sia possibile altrimenti la tua storia è noiosa fondamentalmente l'elemento che Christian de Troyes costruisce qui è tipicamente hollywoodiano una americanata proprio in senso tecnico cioè un oggetto incongruo in un posto dove non dovrebbe stare che serve soltanto a dimostrare il tema e infatti appresso a quel tema diciamo l'argomento poi viene svolto e da quel momento qui ecco ci sta un altro elemento caratteristico della scrittura cinematografica cioè che tu non cogli con facilità gli snodi tematici di grandissima importanza in questo caso diciamo lo snodo tematico di grandissima importanza è quello in cui Lancelot esita prima di salire sulla charrette questa esitazione è il momento fondamentale del romanzo per Christian de Troyes e avrà un rimbalzo fortissimo quando Guignèvre glielo rimprovererà cioè l'unico crimine che Lancelot commette in tutto il romanzo è quello di esitare prima di salire sulla charrette una cosa che peraltro diciamo in una famiglia di manuscritti non troviamo cioè ci sono alcuni manuscritti che riportano il romanzo che non segnalano questa esitazione che invece troviamo marcata invece da tutto il resto della tradizione e che chiaramente ha una sua pertinenza fortissima tanto è vero che a un certo punto del romanzo verrà poi dopo ritirata fuori l'altro elemento di complicazione che c'è qui è quello legato alle prosopopee cioè Cretanetro fa il ricorso talvolta a figure retoriche di tipo talvolta proprio compiute allegorie diciamo ecco in questo caso l'allegoria è contenuta perché in realtà non possiamo parlare di allegoria propriamente detta in quanto non abbiamo delle forme di personificazione vera e propria di queste forze tematiche che agiscono che nel caso specifico sono raison e amor cioè amore e ragione amore e ragione parlano nel corpo del protagonista come lo fai vedere questo al cinema certo è diciamo non intuitivo ma Cretanetro ti suggerisce alcuni spunti diciamo volendolo intendere come una sceneggiatura lui dice che raison parla en la boche cioè nella bocca parla ragione quindi ha una voce sostanzialmente che il protagonista sente echeggiare dentro di lui mentre invece amore naturalmente parla direttamente al cuore non c'è nessuna retorica di amore che sia collegata al parlare il che è anche interessante da un punto di vista diciamo di storia del parlare d'amore insomma che è un altro tema sul quale chiaramente ci si potrebbe a lungo intrattenere nel caso specifico Cretan fa parlare amore direttamente nel cuore del protagonista quindi insomma fondamentalmente quello che riesco a immaginarmi cinematograficamente è che siano due voci che a un certo punto escono fuori suggeriscono di fare l'una o l'altra cosa l'altro elemento interessante è che nei romanzi di Cretan troviamo molto spesso me ne sono accorto devo dire di più ancora di quanto non lo sapessi facendo questa operazione in ricorso all'indiretto libero l'indiretto libero è una di quelle categorie descrittive che tipicamente noi siamo soliti associare al romanzo verista se non altro perché Spitzer diciamo così descriveva diciamo questa categoria presente diciamo un po' in maniera diffusa diciamo nel romanzo ottocentesco lui studia il modo in cui appunto viene addirittura trascesa in verga la cosa gli interessa moltissimo che diventa proprio uno spunto di costruzione non soltanto del racconto ma anche proprio del tema del romanzo e noi tendiamo appunto a scuola si sente parlare tipicamente indiretto libero quando si parla di romanzo realista fondamentalmente insomma ecco i Budenbrock mi ricordo dall'in poi in realtà l'indiretto libero è già estremamente presente nei romanzi di Christian de Troyes è una cosa della quale diciamo più va avanti più mi rendo conto e facendo questo lavoro naturalmente viene facilissimo trovarlo perché tu devi trasformare quell'indiretto libero in dialogo e quindi automaticamente diciamo ogni volta che lo trovi ti clicca questa cosa e dicevo appunto qual è il problema qua è che naturalmente i punti tematici fondamentali vengono un po' occultati all'interno della scrittura cinematografica uno penserebbe il contrario ma invece la scrittura cinematografica più ancora di quella romanzesca non è che ti mette l'accento sullo snodo tematico te lo fa vedere basta e quello che vediamo qui è appunto questo tipo di modalità understated se vogliamo dire di presentazione del momento sostanziale cioè quando amore lo vedete diciamo poco sotto la metà della pagina dice al protagonista toast alla charrette e dice proprio toast cioè sbrigati attenzione non puoi esitare perché se esiti la cosa veramente verrà risaputa e andrà a tuo danno e infatti così sarà naturalmente poi è molto diventa c'ha dei passaggi comici devo dire nel momento in cui lo scrivo con una sceneggiatura questo romanzo viene fuori abbastanza chiaramente il momento in cui Galvano arriva a cavallo presso la charrette il primo momento in cui vediamo l'oselo che avvicina la charrette lo vediamo dall'angolazione di Galvano il prospettivismo del romanzo mediano inversi è cosa che già Cesare Segri aveva mirabilmente illustrato insomma il fatto che vediamo spesso i personaggi fare delle cose dall'angolazione di un altro personaggio e quando Galvano raggiunge la charrette raggiunge chiaramente a cavallo lui il cavaliere perfetto il nipote di Artù un po' il signor Rossi diciamo della cavalleria arturiana e rimane molto colpito da questa scena che vede il nano chiede anche a lui se tu vuoi salire sulla charrette guarda ti ci porto anche a te a vedere dove sta Ginevra e cosa le è capitato dice no guarda io vengo a cavallo sarebbe una cosa troppo vile cambiare un cavallo per una carretta in questo modo glossa naturalmente dalla sua angolazione quella cavalleresca il comportamento di Lancelot e quindi che peraltro ribadisco per l'ennesima volta non sappiamo ancora chi è cioè non abbiamo chiaro quale sia l'identità di questo personaggio quando finisce questa scena della charrette è abbastanza interessante il fatto che ci avviamo verso questo castello e abbiamo una tipica transizione cinematografica con questa carretta che procede seguita da questo cavallo che è il cavallo di Lancelot e arriva presso un castello che vediamo alla distanza e l'elemento interessante penso lo si vede a più avanti ve lo sintetizzo rapidamente è la descrizione accuratissima che Crétien de Troyes offre della posizione del castello rispetto alla vallata antistante cioè lui ci dice che la torre in particolare affaccia su una valle ce lo dice con buon anticipo perché in realtà è importante che noi sappiamo con anticipo che dalla torre tu puoi vedere cosa accade nella valle in basso perché in realtà è proprio da quella torre che Lancelot vedrà passare per la prima volta a Ginevra al seguito del corteo condotto da Melagan verso il regno di Gor e quindi diciamo è lo snodo tematico appunto di grande rimbalzo emotivo che noi ci stiamo aspettando l'altra cosa che noi osserviamo con notevole agio in questa scena in particolare è la quantità di voci che si che collaborano a costruire il racconto qui l'ho ricostruito io così diciamo introducendo questi personaggi la Dame du Chateau il Messier du Chateau il Garçon du Chateau la Vieille Dame du Chateau lui non li presenta così però dice che sostanzialmente tutti quanti vecchi e giovani di ogni estrazione sociale quando la carretta entra dentro questo castello comincia a insultare Lancelot domandando al nano che cosa ne faranno di questo criminale perché naturalmente dall'angolazione degli abitanti del castello quello che sta arrivando in città è un criminale catturato che dovrà essere a un certo punto o scuoiato o dato fuoco oppure impiccato o le varie cose diciamo che si dicono che si dicono qua appunto e quindi abbiamo anche tutta una parte di racconto che porta con sé quei personaggi secondari diciamo con primari o comparse come le chiameremmo diciamo che effettivamente hanno un loro ruolo e anche voce in talune situazioni di nuovo una visione troppo manichè radicale ha fatto del romanzo medievale in versi un genere come dire monodico che racconta soltanto gli eventi dei personaggi che appartengono a un certo ceto sociale cioè a quello della cavalleria fondamentalmente o della nobiltà in realtà quando lo andiamo a scavare secondo le categorie più contemporanee come ad esempio quelle hollywoodiane quello che vediamo è che addirittura siamo in grado di riconoscere la voce invece di personaggi di altre estrazioni naturalmente diciamo voci marginali che punteggiano i racconti in una maniera non sostanziale ma comunque presenti cioè non viviamo in questo mondo completamente rarefatto che Eric Hauerbach diciamo immaginava come un proseguo del mondo dei racconti di fiabbe non è così in realtà il diritto feudale è presentissimo è descritto in maniera molto analitica le conseguenze delle azioni vengono anche descritte in maniera molto congrua e attinente anche alle consuetudine dell'epoca di Artù anche se Cristiano naturalmente scrive in un'epoca che è successiva di sei secoli sempre che Artù naturalmente sia esistito sei secoli più probabilmente c'è quindi un'attenzione anche di carattere storiografico rispetto alle costumanze del tempo gli anacronismi certamente ci sono ma insomma diciamo sono un elemento presente che però non va necessariamente riallacciato a un'idea di scherza adesione a un'idea di realismo la quale va ripensata diciamo in maniera sostanziale diciamo ecco che Credito non è meno realista di un qualunque film hollywoodiano insomma ecco questo è un po' il punto la descrizione di questo di questo della notte che Galvano e Lanselow passano presso questo castello è interessante perché mette in luce un aspetto sul quale io ricordo diciamo un seminario interessante di Mario Mancini e Alberto Varvaro che discutiamo tra di loro sull'argomento che in realtà ci mette un po' in difficoltà cioè su come erano fatti questi castelli medievali diciamo sul modo in cui più che come erano fatti che magari lo possiamo vedere perché esistono ancora ma come erano praticati in che modo gli spazi venivano praticati fino a che tu non sei obbligato a immaginarteli cinematograficamente non hai bisogno diciamo di stare a capire dove stanno i personaggi ad esempio in questa scena da quello che sono riuscito a ricostruire sostanzialmente tutte le azioni descritte avvengono in questa sala della torre del castello ora che i cavalli entrassero a corte diciamo è cosa abbastanza diciamo conclamata ma sostanzialmente dentro la stessa sala poi ci si dorme pure ci si mangia pure ci si fa un po' tutto sostanzialmente si parla avendo il problema di andare a snodare l'unità di luogo quello che salta fuori e che fondamentalmente sembrerebbe stando a Crétien de Troyes non alterando una sola riga di quello che scrive che tutti gli eventi che avvengono dentro la torre del castello avvengano nello stesso ambiente la sala della torre fatta forse eccezione per la messa che la demoiselle della torre fa tenere la mattina dopo quando diciamo i personaggi si svegliano ma anche i due letti che vengono apparecchiati per la notte i tre letti in realtà per Galvano e Lancelot sembrerebbe che siano apparecchiati nella stessa sala nella quale i due entrano a cavallo vengono disarmati vengono rivestiti secondo le abitudini diciamo del tempo e quindi sostanzialmente gli si affida un mantello e degli abiti decenti per passare la serata in maniera cortese e poi ci dormono pure e poi l'indomani praticamente appunto si ritrovano lì quando dalla finestra vedranno vedranno passare i due vedranno passare il corteo di Ginevra e l'unico elemento appunto diciamo poco chiaro è dove si svolga la messa questo non è abbastanza questo diciamo su questo diciamo l'arbitrio rimane rimane naturalmente qui diciamo ci troviamo anche quando uno prova a fare un'operazione di questo tipo molti snodi narrativi sui quali diciamo la critica tende a passare così in supplessi senza preoccuparsene tu non lo puoi fare perché tu devi tirarci fuori un film da questa roba quindi devi almeno aver capito che succede e uno dei passaggi nodali che ti si palese in una maniera molto differente da come l'avevi immaginato fino a quel momento è il passaggio della adesso ve lo devo raccontare un po' tutto se no non si capisce insomma diciamo della lancia infuocata che colpisce l'anselò durante la notte come funziona che praticamente la demoiselle offre ai due cavalieri un rifugio per la notte come rifugio ospitalità per la notte come doveroso che sia e presenta tre letti che vengono apparecchiati in questa sala uno dei tredici però che non va bene non bisogna dormirci non è fatto perché loro ci dormano Galvano in buon ordine se ne va a dormire dove gli viene detto l'anselò naturalmente no sceglie il letto proibito e nel letto proibito viene colpito nella notte da una lancia infuocata la sua reazione a questo assalto è di una compostezza assoluta sembra un po' Clint Eastwood in un film western diciamo prende la lancia la butta via in mezzo alla sala e poi si rimette a dormire come se niente fosse come se la cosa non lo colpisse ora attorno a questa lancia naturalmente c'è grande dibattito c'è stato forse adesso o meno perché nessuno gliene frega più moltissimo i romanzi credendo trova anche veramente anche se è stato avviso che nessuno parlava di credendo trova a parte me che sono un po' malato di questa cosa e la cosa di cui si parla naturalmente è l'aspetto magico di questa lancia il fatto che sostanzialmente c'è un prodigio che si produce in realtà se tu lo vai a leggere analiticamente per trasporlo in un film tu non sai quella lancia dove salti fuori cioè non si parla di un prodigio può essere benissimo che è arrivato uno e gli è attirata cioè non è assolutamente chiaro l'unica cosa che sai è che lui viene assaltato naturalmente Fulego e T avevano portato gli editori avevano portato l'attenzione su un fatto molto importante della tradizione del romanzo cioè che nella versione tedesca quell'Ancelet che è un romanzo molto differente da Sciavoli della Sciarretta in realtà l'ancillotto dorme in un letto che gli viene proibito però con una dama che è la figlia del barone e che il giorno dopo viene ferito e potrebbe in un certo senso darsi questo sono Fulego e T che lo dico non io che l'episodio della Lancia sia una memoria di quel episodio che si trova anche nella versione tedesca cioè il romanzo di L'Ancelet il che è evidentemente possibile e la ragione per la quale Cretieno potrebbe aver riconfigurato completamente il racconto in questo modo è perché L'Ancelot finché non incontra Ginevra non dormirà con nessun'altra De Moiselle per una ragione fondamentale cioè perché lui è perdutamente innamorato di Ginevra e non può dormire con nessun'altra e il suo interesse è quello di dimostrare che lui è sinceramente innamorato di Ginevra e quindi diciamo potrebbe aver riconfigurato questo episodio in questo modo al di là della tradizione complessa che ci può essere dietro questo episodio di sicuro l'elemento magico non appare come tale io vabbè è un po' di tempo che lavoro sulla demistificazione del meraviglioso nei romanzi medievali inversi perché è una di quelle categorie che è stata fortemente abusata perché si è voluto il più possibile associare i romanzi medievali inversi a una dimensione del fiabbesco del meraviglioso del magico di quando noi eravamo magici e invece appunto diciamo il romanzo realista il nove invece che racconta veramente come le cose accadono nella vita in realtà il discorso è molto più sfumato di così e di sicuro molti aspetti che uno ricondurrebbe alla categoria del magico non necessariamente magici poi sono ecco questo episodio qui per esempio di magico c'ha abbastanza poco è una di quelle cose come ellittica come la sciarrette dice perché una sciarrette si trova in mezzo al nulla perché l'anseloci deve salire sopra questa è la ragione per cui ci si trova fondamentalmente e così di nuovo perché deve essere ferito naturalmente su questo si può costruire anche tutto un ragionamento sull'aspetto del sangue della ferita la ferita d'amore e l'abbiamo pure fatto diciamo perché è un argomento sul quale chiaramente si può a lungo ragionare l'idea che la ferita sia la vera dimostrazione del fatto che si è innamorato questo capita sia per il romanzo di 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 che per tristano nella nella versione di berul ma naturalmente sono aspetti ecco qui potremmo dire in una certa misura simbolici che di nuovo ci rimandano a una cinematografia che potrebbe essere quella che non so David Lynch per capirci allora quando non ne potete più non lo potete tranquillamente dire e ora volevo arrivare al punto in cui diciamo i nostri se ne vanno da questo da questo castello dopo aver visto Ginevra e trasportata Melaghan nella la mattina dopo la messa e diciamo inseguendola fondamentalmente Lancelot e Gauvin arrivano in un bosco entrando in questo bosco incontrano una demoiselle questa demoiselle Dubois la demoiselle la tipica fata del bosco fondamentalmente di nuovo elemento mitico che viene riconfigurato da Cristiano in termini poco chiari e ci volevo arrivare a illustrarvelo per una ragione fondamentale cioè perché anche questo personaggio nella versione in prosa verrà un po' riconfigurato come un personaggio che ricorre il problema dei romanzi medievali inversi è che spesso saltano fuori dei personaggi che servono solo a dare indicazioni stradali sostanzialmente in questo caso è una specie di semaforo la demoiselle del bosco gli dice vabbè andate di là o andate di qua gli spiega un po' la storia e fa un po' di exposition questo sì però i personaggi glielo chiedono nel senso che non sanno dove devono andare mentre lei sa tutto è un niscente chiaramente è un personaggio che porta reminiscenza delle fate dei boschi senza ombra di dubbio vero ma è anche vero che Crétiano lo costruisce come un personaggio diciamo dotato di una sua dimensione giuridicamente rilevante questo è un aspetto al quale io tengo moltissimo che viene spesso sottovalutato cioè la distanza che c'è tra i romanzi di Crétiano de Troyes e i racconti di Fiabbe si colloca proprio in questo snodo sostanziale che è quello del diritto cioè il fatto che i romanzi di Crétiano de Troyes portano traccia evidente di notazione di diritto che presentificano i personaggi in una maniera rispettosa dei rapporti direi dei rapporti di produzione e dei del diritto che lì in una certa misura garantisce marxianamente ma di questo si tratta sostanzialmente cioè sono personaggi veri in quanto personaggi che rispondono a delle leggi la demoiselle del bosco chiederà in cambio delle sue informazioni un favore inteso proprio come un guiderdon cioè come un un contraccambio un servizio su questo elemento il romanzo in prosa andrà a sviluppare tutta una narrazione nel senso che poi effettivamente questo servizio le verrà reso sarà un servizio che poi non se lo renderà la demoiselle perché il personaggio sarà un personaggio ricorrente che vediamo riapparire poi più avanti nella storia Crétiano non ha bisogno di questo il suo racconto è il racconto pieno dell'issi e naturalmente di questo diciamo fa a meno l'incontro con la demoiselle del bosco diciamo prelude alla separazione dei due personaggi come vedete anche qui il dialogo a volte può diventare un po' pesante cioè questa costruzione di dialogo di venti righe in un film può essere può essere molto pesante perché questa parla per mezzo minuto fondamentalmente e al cinema mezzo minuto di uno che parla è una roba che o lo fa Donald Sutherland oppure è vivo ancora non lo so però insomma ecco o lo fa uno così oppure tu non lo puoi sentire fondamentalmente e d'altra parte però sono quegli snodi di racconto che ha bisogno di una voce che intervenga a chiarire tutti gli aspetti della storia che altrimenti rimarrebbero poco chiari e abbiamo qui un altro snodo di racconto importantissimo perché praticamente è il punto dove Lancelot e Galvano si separano Lancelot prende la strada del ponte di spada che lui attraverserà poi a mani nude mentre invece Galvano va verso il ponte Vage il ponte Vage è descritto in una maniera abbastanza da film così diciamo d'azione di quelli piuttosto vistosi nelle quali per passare il ponte Vage devi passare sott'acqua perché il ponte passa sott'acqua non passa sopra il livello del fiume e lì Galvano verrà in realtà catturato ma Crétien non ci racconta nulla della storia di Galvano cioè non va sul doppio piano narrativo da una parte la storia di Galvano dall'altra parte la storia di Lancelot facendo quella cosa che diventerà famosa nei romanzi in prosa come Entre las mots cioè intreccio di due storie che praticamente si incontrano e si perdono lui segue soltanto la storia di di Lancelot e Galvano lo ritroveremo quando Lancelot lo andrà a recuperare perché è stato catturato dal ponte Vage gli interessa evidentemente soltanto la storia di Lancelot per ragioni che un po' ho chiarito perché è un romanzo d'amore e quindi racconta la storia dell'innamorato che consegue l'amata fondamentalmente questo è un po' il punto nodale e quindi abbiamo la separazione tra questi due personaggi è abbastanza interessante il modo in cui i ponti vengono descritti il ponte Vage viene descritto solo qui perché poi in realtà quando Lancelot ci ritorna non è più rilevante il fatto che lo si debba attraversare ma è rilevante la scelta questo è un altro punto fondamentale del cinema hollywoodiano cioè il fatto che ti trovi di fronte a un sacco di quelli che si chiamano tecnicamente option locks cioè di quei momenti nei quali il patronista deve fare una scelta e può fare la scelta giusta o quella sbagliata in questo caso Lancelot è brillante perché si affida al fato cioè dice quasi tira la monetina nel senso che dice scegli tu a Galvano scegli tu quale ponte preferisci non voglio essere io a sceglierlo perché se poi la cosa andasse a finire male deve essere il fato che l'ha deciso non devo essere io questo intervento che non è sovrannaturale perché è Galvano che sceglie in realtà però questo demandare l'opzione è un elemento fortemente hollywoodiano cioè l'idea che tu non ti fidi di te stesso e quindi puoi andare oltre e il fato interviene fondamentalmente se avesse preso la vita del ponte Vaggio magari sarebbe stato catturato come Galvano e non sarebbe riuscito a raggiungere Ginevra cosa che invece attraversando il ponte di spada a mani e piedi nudi quindi ferendosi ulteriormente di nuovo l'elemento della ferita amorosa ma non ci andiamo sopra in quel modo invece la sorte gli arride questa cosa dell'option lock è una cosa fortemente hollywoodiana cioè proprio di trama di costruzione della trama che si trova tipicamente dentro un sacco di film l'idea che che sono basati su l'idea della sincronicità fondamentalmente cioè l'idea che in quel determinato momento devi stare proprio là perché se non ci sta le cose non accadono e qui ritorna Campbell e Fogler che riprende Campbell perché questo è proprio teorizzato e tematizzato a Hollywood qui è dove i due praticamente se ne vanno separandosi e promettendo di rendere il servizio ora io vi ho presentato tutta una serie di elementi diciamo così variamente confusi grazie ai quali si può afferrare che tipo di evidenze emergano da un lavoro di questo genere che è un lavoro banalissimo cioè tu prendi un romanzo inverso e lo metti nel formato di una sceneggiatura automaticamente nel momento stesso in cui fai questa cosa tantissimi elementi di spiegazione della storia emergono come necessari cioè tante cose sulle quali non ti sei mai interrogato diventano importanti devi farlo cioè devi provare a capire cosa succede veramente e questo è il primo tratto di sintesi che io tirerei fuori da questo lavoro e da un lavoro del genere applicato per esempio all'interno di una routine scolastica cioè il fatto che mentre leggiamo non ce ne accorgiamo ma perdiamo tutta una serie di informazioni leggendo un testo senza pronunciarlo all'alta voce senza interrogarci su quello che il testo dice sono tantissime le cose sulle quali noi non ci soffermiamo e tantissime le cose alle quali noi non diamo importanza perché non ce ne frega niente vogliamo andare avanti fondamentalmente con questa storia facendo un lavoro di questo genere non lo puoi fare perché tu devi visualizzarle in maniera corretta e quindi già questo è un esercizio di interesse straordinario per capire l'efficacia di un testo anche apparentemente lontano da noi che poi in realtà è molto più vicino di quello che crediamo è molto più vicino di tanti che invece magari pensiamo essere più vicini a noi e non lo sono ma quindi prima cosa questo basta semplicemente trasporre un oggetto letterario da un formato a un altro e prende una forma che in qualche misura ti obbliga a fare i conti con aspetti che non avresti mai 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 capito se non ti fossi interrogato su quegli aspetti o che avresti magari etichettato come fa la critica senza interrogarti sulla vera natura di quei passaggi quindi la prima cosa ecco interessante è questa cioè il passaggio da un formato a un altro è rivelatore di aspetti del formato originario il secondo aspetto vabbè poi ci sono delle note di sintesi che me l'ho preso ecco qua ecco il secondo aspetto riguarda la misura cioè nel momento in cui tu prendi un romanzo in versi e lo trasponi nel formato Final Draft 10 quindi il formato di una sceneggiatura ti accorgi che sostanzialmente diciamo un romanzo di 7000 versi come questo poco più di 7000 versi ti viene quasi una roba di quasi 200 pagine 180 pagine ora una pagina un minuto non lo dimenticate mai quindi fondamentalmente ti ritrovi con un film di tre ore un film di tre ore non è un film commerciale un film di tre ore è un film che ti ammorba cioè di quelli proprio pesanti che o è un bellissimo film oppure tipo vorresti morire mentre stai lì dentro magari fa anche caldo e sei bagnato perché piove e diciamo i film così lunghi sono quei film diciamo che noi siamo tipicamente abituati a pensare come la parola qui è ambigua però film epici adesso forse non è la parola che dovrei utilizzare film che però hanno questa portata di grande respiro narrativo per una ragione o per un'altra ho preso degli esempi insomma è Barry Lyndon di Kubrick o Schindler List di Spielberg Magnolia meno conosciuto di Paul Thomas Anderson o JFK cioè sono dei film quindi molto lunghi che hanno delle ambizioni narrative forti tutti quanti è difficile che tu trovi un film con scarse ambizioni narrative che possa durare tre ore perché chiaramente un produttore dice questo per favore me lo tagli nel senso che così proprio non lo va a vedere nessuno quindi ecco diciamo che un romanzo di Christian tipicamente ha quel tipo di estensione badate bene che però questo è già un fatto interessante perché non stiamo parlando di una cosa infilmabile stiamo parlando di una cosa filmabile cioè siamo dentro il range di cose che comunque sia vanno sullo schermo cioè non stai realizzando una sceneggiatura che sta fuori dal mondo quindi il livello di compatibilità diciamo sia pur su un range più estremo c'è comunque ok questo si dà naturalmente esistono romanzi anche più brevi di questo e esistono romanzi più lunghi questo va detto insomma il secondo elemento che volevo sottolineare è quello del rapporto tra le varie parti del discorso cioè le varie parti del discorso come insomma diciamo si può vedere abbastanza bene chiunque di voi sia vagamente familiare con una sceneggiatura ecco se vede questo non è che dice tocca cosa strana questa è la pagina di una sceneggiatura anche di un posto al sole è fatta così ecco non è tanto diversa quindi non è che stiamo parlando di una cosa folle stiamo parlando di una cosa che ci sta dentro la dimensione diciamo della della pagina di sceneggiatura fondamentalmente il terzo aspetto che è molto interessante non l'ho segnalato per iscritto ma diciamo non me lo volevo dimenticare è l'incidenza del numero di scene pure questo è un fatto molto importante cioè tipicamente quello che c'hai in un film è che un film hollywoodiano c'è un centinaio di scene dentro un film qui ce n'hai molte di più nella prima parte in realtà non so questo non lo so perché non l'ho fatto andrebbe fatto per tutto il romanzo se poi andando avanti la cosa si normalizza oppure se la quantità di scene che tu c'hai dentro il romanzo medievale è molto maggiore di quella che avresti in un film hollywoodiano questa è una cosa che diciamo insomma bisogna ancora osservare in conclusione diciamo io quello che penso che sarebbe divertente fare è fare un romanzo per intero dall'inizio alla fine e vedere come viene e ho già dato una tesi a una studentessa che se vuole laureare su questa cosa diciamo pur qua pa mi sono detto proviamo a vedere che salta fuori e vedere quindi e misurare naturalmente il ragionamento sull'estensione di un intero romanzo vedere fino a che punto i ragionamenti di compatibilità che ho fatto su questa piccola parte introduttiva poi trovano un riscontro secondo capire che tipo di ragionamento si possa fare naturalmente questo interessa più a voi le dinamiche laboratoriali all'interno delle quali siete operative che tipo di esperienza conoscitiva del testo può saltare fuori da un'operazione di questo tipo cioè dalla transcodifica da un genere letterario ad un altro perché sostanzialmente si tratta di questo e io direi che così avrei finito grazie grazie grazie